insieme ultimate briefcase super briefcase 2 lo trovate sul play store gratuitamente in cosa consiste il gioco il gioco vi offre la scelta di un personaggio in uno scenario che viene bombardato da questi missili come vedete e noi non dobbiamo fare altro che schivare le bombe raccogliere questi pallini blu che ci danno l'energia necessaria a proteggerci in questo caso con la valigetta del nostro personaggio per poter evitare appunto che le bombe ci cadano in testa gioco molto semplice e bello se si deve aspettare magari per una visita o una qualsiasi cosa il gioco è abbastanza semplice è adatto per partite rapide anche perché comunque il livello di difficoltà è via via crescente e quindi si presta anche a sessioni di gioco un pochettino più lunghe è abbastanza difficile come potete vedere già sono morto una volta e niente poi andiamo raccogliendo anche dei piccoli bonus e delle monete per poter acquistare nuovi personaggi o nuovi gadget ci sono anche effetti tipo la pioggia che è possibile raccogliere che rallenta un pochettino alla caduta delle bombe e niente ragazzi vi consiglio di scaricarlo vi lascerò il link in descrizione e ci vediamo una prossima vi consiglio un'app android io vi saluto e ciao briefcase ecco bonus prima di di chiudere ciao a tutti